signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai e io sono il master kai il vostro ospite su questo canale la settimana scorsa abbiamo cominciato a introdurre l'argomento dei dungeon non lineari cioè quei dungeon che non hanno un percorso ottimale previsto e sono pensati più che altro per favorire l'esplorazione vi avevo avvisato che saremmo andati avanti ancora anche questa settimana quindi eccoci qui la scorsa settimana abbiamo visto più che altro la teoria di che cosa sia un dungeon non lineare e perché introdurne uno in una campagna basata sull'esplorazione questa settimana invece scendiamo più sul tecnico e andiamo a vedere cosa dovete non dovete fare quando progettate un dungeon non lineare cominciamo subito col dire che questo video è proprio un seguito diretto di quella settimana scorsa quindi se non lo avete ancora visto andate a recuperarlo perché se no non capirete nulla di quello che verrà detto questa settimana lo dico per voi per evitare mandarvi in confusione detto questo cominciamo subito con due elementi fondamentali ma di cui in realtà abbiamo già accennato prima cioè il fatto che il dungeon debba avere entrate e uscite multiple e che il dungeon debba essere di notevoli dimensioni sembra banale ma è meglio ripeterlo in maniera chiara quando si usa un dungeon non lineare lo si fa per il motivo dell'esplorazione lo abbiamo ripetuto alla nausea quindi se il dungeon è piccolo semplicemente ci sarà troppa poca roba da esplorare e se il dungeon ha un'entrata e un'uscita fisse o comunque un percorso obbligato al suo interno per quanto questo percorso possa essere complesso si tratterà comunque di un dungeon lineare il punto di un dungeon non lineare è proprio quello di poter essere approcciato e girato dai giocatori nella maniera che loro ritengono migliore o che loro ritengono più interessante so che sembro estremamente insistente su questo punto ma ci martello per il fatto che la progettazione di un dungeon non lineare se non proprio di un mega dungeon è qualcosa di estremamente lungo e complesso quindi a meno che voi non abbiate uno specifico motivo per inserire un dungeon non lineare nella vostra campagna è probabilmente meglio che voi non lo inseriate e facciate qualcosa di più lineare se il dungeon deve servire semplicemente come giustificazione narrativa per andare a recuperare un oggetto magico o come tana del boss finale o quello che è non avete bisogno di perdere tempo dietro un dungeon non lineare mettete semplicemente un dungeon lineare magari molto grosso ma la risolverete in quel modo molto più facilmente non cercate di affrettare le cose o fare le cose in maniera grossolana quando vi approcciate a un dungeon non lineare perché sennò ci metterete ancora più tempo e quello che otterrete probabilmente sarà una schifezza se vi prendete il disturbo di mettervi a progettare un dungeon non lineare per favorire l'esplorazione lo dovete fare solo ed esclusivamente quando l'esplorazione vuole essere quello che voi volete dare ai vostri giocatori il primo principio a cui dovete attenervi quando progettate un dungeon non lineare è appunto quello che essendo non lineare la sua struttura tenderà a essere concentrica che nella pratica vuol dire che i percorsi che gli avventurieri faranno al suo interno tenderanno a formare dei cerchi gli avventurieri letteralmente gireranno intorno alle aree non pensate ovviamente a una struttura d'anello in quel caso non avreste ottenuto un dungeon non lineare ma semplicemente un dungeon lineare in cui i giocatori possono scegliere all'inizio del dungeon se girare a destra o a sinistra più che altro dato che sarà possibile accedere al dungeon da vari punti e ogni area del dungeon sarà collegata a varie altre aree nella pratica sarà possibile percorrere un'area e ritornare al punto da cui si è partiti con l'esplorazione senza mai ripercorrere una strada che si è già fatta in precedenza inoltre vista la presenza di vari collegamenti interni tra un'area e l'altra non solo l'esplorazione dell'intero dungeon potrà essere un anello ma anche all'interno del dungeon stesso saranno presenti altri anelli più piccoli che collegano le aree tra di loro il motivo per questo è duplice da una parte garantisce ai giocatori di poter accedere ed esplorare il dungeon nella maniera che loro preferiscono che comunque ritengono più interessante o più efficiente e dall'altra assicura a voi come master che i giocatori indipendentemente dalle scelte che faranno avranno comunque la possibilità di accedere a tutto il materiale che voi avete preparato un dungeon lineare normalmente è costruito tutto su un unico piano immagino già che stai dicendo a non è vero molto spesso un dungeon lineare viene descritto come avere scale vari livelli magari anche un unico pozzo una torre che sale ma dato che la sua struttura è per l'appunto lineare cioè c'è un ingresso c'è un percorso e c'è un'uscita il fatto che il dungeon abbia più piani è qualcosa che esiste puramente all'interno della fiction all'interno del mondo di gioco serve per renderlo interessante ai giocatori per come viene descritto nella pratica a livello meccanico i giocatori stanno continuando a seguire una linea retta che questa venga descritta con una linea che non sia retta non la rende meno retta nella pratica ma dato che qui stiamo parlando una struttura non lineare dobbiamo andare a introdurre un paio di cose che rapidamente renderanno il tutto più complicato cioè livelli e semi livelli i livelli di un dungeon sono in tutto e per tutto i piani in cui è diviso i livelli si sovrappongono l'uno all'altro e ovviamente saranno collegati tra di loro da scale o ascensori o quello che è appropriato per l'ambientazione in cui il dungeon si trova anche se può sembrare come sempre un concetto fondamentalmente banale dividere il dungeon in vari livelli a dei vantaggi il primo è probabilmente il più semplice è quello di poter rappresentare il dungeon senza dover andare a tenere le proprie sessioni in un parcheggio perché la mappa del dungeon supera i due metri di spigolo parlando più seriamente questo è un modo per nascondere ai giocatori quale sia la reale forma del dungeon un edificio normale un edificio verticale potrebbe avere una mappa intuibile per i giocatori che semplicemente ci girano intorno non sapranno come la struttura interna nelle stanze ma l'esterno e l'edificio in linea di massima dovrà combaciare con lo spazio interno e l'edificio se però stiamo parlando di un dungeon che è quasi sempre una struttura sotterranea e questo è uno dei motivi per cui quasi sempre una struttura sotterranea i giocatori non avranno un reale punto di riferimento per capire come sia fatta all'interno e l'unico modo che avranno per scoprire come sono fatti i singoli livelli sarà appunto quello di andare a esplorarli non fate infatti l'errore di dare per scontato che i livelli di un dungeon debbano essere per forza uno identico all'altro o anche solo che debbano sovrapporsi perfettamente tra i loro i livelli potrebbero avere ognuno una forma diversa e essere anche svasati gli uni con gli altri in modo da creare ancora più confusione nei giocatori su quale sia effettivamente il punto della struttura al cui interno si trovano in più in questo modo i giocatori non potranno neanche inferire niente dall'esplorazione di un livello rispetto agli altri il fatto che il livello di sopra abbia una determinata forma non vorrà dire che il livello di sotto abbia una forma simile e abbiamo detto più volte che ogni livello deve essere collegato a tutti gli altri ogni zona deve essere collegata a tutte le altre questo però non vuol dire che parti diverse dello stesso livello debbano necessariamente essere collegate tra loro questo è quello che viene definito il semilivello cioè zone del dungeon che si trovano alla stessa altezza ma che in realtà non sono connesse tra loro andando a dividere quel livello del dungeon in due o più aree separate qui bisogna fare una specificazione perché se stiamo parlando di un dungeon convenzionale per quanto non lineare di dimensioni grandi ma contenuti il collegamento tra i vari livelli o anche i collegamenti tra una zona e l'altra dei vari livelli saranno fatti in maniera più convenzionale come abbiamo detto scale, ascensori, tunnel magari una grotta o una serie di cunicoli che collega tra loro le varie aree del dungeon quando invece stiamo parlando di un mega dungeon le connessioni tra un livello e l'altro potrebbero a loro volta essere interi dungeon magari in questo caso dungeon lineari che una volta percorsi permettono appunto di sbloccare la strada tra una zona e l'altra e magari ognuno di questi dungeon avrà una sua storyline, un suo boss o quello che è a questo punto potreste cominciare a pensare che esplorare una struttura del genere alla lunga potrebbe diventare disorientante per i giocatori soprattutto se non stiamo parlando semplicemente di un grosso dungeon ma di un vero e proprio mega dungeon di cui probabilmente non esiste una mappa dettagliata nell'intero complesso ma solo alcune mappe di alcune aree della struttura infatti è vero, un dungeon pensato per l'esplorazione è anche pensato per far perdere i giocatori al suo interno se però voi vi limitaste a lasciare che i giocatori girino a vuoto all'interno del dungeon l'esperienza non sarebbe un interessante punto di vista sull'esplorazione ma sarebbe semplicemente frustrante i giocatori non saprebbero cosa fare non potrebbero uscire da lì e molto presto si annoierebbero di tutto quanto quindi un modo per ovviare a tutto questo è inserire all'interno della mappa o all'interno della struttura qualcosa che possa fungere da punto di riferimento per i giocatori in modo che quando ci arrivino sappiano riconoscere la zona e da lì possano fare il punto per orientarsi e quindi evitare di girare senza meta ovviamente la cosa migliore da fare è mettere questi punti in zone di o passaggio obbligato o vicino a ingressi di modo tale che i giocatori anche solo accidentalmente prima o poi li trovino e nel caso si perdano accidentalmente possano ritrovarli magari nell'intersezione tra due corridoi c'è una statua particolarmente grossa dalla forma particolarmente bizzarra o magari una serie di cunicoli che collega a varie aree del mega dungeon converge tutto in un'unica caverna naturale che ha delle rocce fluorescenti o delle piante particolarmente bizzarre diciamo comunque qualcosa che è facile per i giocatori ritrovare ed è sufficientemente riconoscibile da fare in modo che quando ne sentano la descrizione capiscano immediatamente che hanno girato in tondo e sono tornati al punto da dove erano partiti in modo da potersi riorientare questi punti di interesse non solo hanno un valore meccanico all'interno del dungeon che permette ai giocatori di orientarsi ma potrebbero averne uno anche all'interno della fiction del mondo di gioco dopo tutto il mega dungeon è una struttura imponente anche all'interno della fiction quindi chi l'ha costruito chi l'ha allargato potrebbe aver volontariamente piazzato dei punti di riferimento per evitare di perdersi a sua volta all'interno del mega dungeon e paradossalmente questo potrebbe aiutare gli avventurieri orientarsi anche se non sono vicini al punto di riferimento vero e proprio se queste costruzioni queste zone sono state create dai costruttori originali del dungeon per orientarsi altre zone potrebbero avere dei veri e propri cartelli stradali che indicano la distanza e la posizione rispetto a uno di questi punti di riferimento o un mega dungeon che sia già stato esplorato in precedenza da altri avventurieri o che sia stato nuovamente abitato a nuove creature potrebbe avere banalmente scritto sul muro qual è la distanza da uno di questi punti di riferimento perché qualcun altro si è già perso lì dentro e ha cercato di risolvere il problema orientandosi questi sono elementi di fiction che il master può utilizzare per aumentare la verosimiglianza della vita all'interno di un mega dungeon magari la mappa del tesoro all'interno del mega dungeon non è una piantina ma è una serie di indicazioni in cui dice dalla statua forma di demone procedi per 50 porte verso destra e poi gira al secondo cunicolo con l'architrave a forma di gargoyle diciamo che video un po lungo ma con questi elementi tra quello che abbiamo detto questa settimana e quello che abbiamo detto la settimana scorsa dovreste avere tutto quello che vi serve nella vostra scatola degli attrezzi del master per progettare il vostro dungeon non lineare o magari iniziare a fare un abbozzo di mega dungeon ci sono però ancora alcune cose di cui vorrei parlare ma ne parleremo poi in mente tra un paio di settimane adesso devo ancora organizzare i video stavo anche pensando se magari fare un video riassunto magari proprio prendere la mappa di un dungeon andare analizzarla non so però se sta cosa potrebbe essere effettivamente interessante o ridondante piuttosto scrivetemi nei commenti a voi interesserebbe un video del genere sicuramente non lo posso fare in tempo reale però sapere se metterlo in lista o vuoi lasciar perdere trattare altro diciamo comunque che questo video è tutto voi non lo sapete ma questo video e i video che arriveranno le prossime settimane io li ho girati in fortissimo ritardo perché quest'anno durante le feste ha avuto la peggiore influenza che si sia mai vista nella storia non mi succedeva da anni sì lo so a voi non vi interessa lo dico per me comunque diciamo che per questo video è tutto come sempre se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco da gruppo i telegram dove metto io le notifiche non manualmente e dove si raduna anche il resto della community del master cae per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video